Questo programma è stato presentato da Lollo Caffè Verduri Orogel San Benedetto Skin Care Il rituale di bellezza Egotà, belli, puliti, profumati Grazie al suo principio attivo Abbatte il dolore mentre cura l'infiammazione della gola Dando un rapido sollievo Tanto un verde gola La vita è bella quando il mal di gola passa Disponibile anche all'aroma camomilla e miele Da Angelini Pharma Cosa si fa Piano, piano Che poi sarà Buono, buono Maina Panettone nocciolato Maina Piano, piano Buono, buono L'ho adesato Dior Mio papà più che un pasticcere è un pasticcione Ma con il mascarpone Santa Lucia non ci batte nessuno Il mascarpone Santa Lucia è così morbido e cremoso Che rende perfetti tutti i tiramisù Santa Lucia Ogni giorno qualcosa di speciale Win3 è sempre più vicina alle aziende Con Win3 Business Chi cerca la bellezza sa sempre dove trovarci Scegli anche tu un unico partner per il tuo business Siamo sempre al tuo fianco con l'offerta completa fibra immobile Vieni in Win3 Store Contatta il tuo agente o vai sul sito Win3 Business Cavaliere, per chi sono questi regali? Per tutti gli italiani E a Natale Vi aiutiamo con tante idee Buonissime anche nel prezzo MD Buone feste Italia Natale quale show puntata specialissima Dedicata alla raccolta fondi per Teleton Una gara di solidarietà Con le esibizioni dei migliori concorrenti Delle passate edizioni Chiamati ad interpretare Famose canzoni natalizie La beccata in pieno Uno show unico Per tutta la famiglia Eccoci di nuovo insieme Carlo Conti presenta Natale e quale Speciale Teleton Domenica alle 20.35 Su Rai 1 Le squadre sono formate Ma la selezione continua The Voice Kids La semifinale Venerdì alle 21.30 Su Rai 1 L'audio descrizione di questo programma Può essere ascoltata dai non vedenti Sul canale audio digitale o satellitare dedicato Attivando i tasti interattivi del telecomando Tigo Ta Belli, puliti, profumati Ruggiero Presente Selezionata per fritture Ruggiero Patata da forno e vapore Presente Antonio Ruggiero Dal 1889 La famiglia delle patate È come se avessi Un cactus in gola È come avere la gola in fiamme Da Neoborocillina Un rimedio per ogni esigenza E per il benessere della gola Pro polmieli più Neoborocillina Esperto della gola Sauvage Elixir Dior Quando cambi modo di muoverti Anche ciò che ti sta intorno cambia Per questo c'è AnyLife Per trasformare il modo di spostarsi nel mondo Con soluzioni di mobilità sempre più sostenibili E servizi in continua evoluzione AnyLife AnyLife La mobilità viva Gourmet Revelations Svelate la sua forma unica Ammirate la mousse delicata Gustate la cascata di salsa Il rituale per veri intenditori Gourmet E se il tuo colore rispecchiasse l'età che senti Mi sentirò no quasi Sicuramente più giovane Excellence Creme da L'Oreal Paris 60 donne lo hanno messo alla prova Dona un aspetto visibilmente più giovane Per l'85% delle donne Mi fa sentire più giovane Ha coperto tutti i miei capelli bianchi E mi piace quel che vedo Excellence Creme da L'Oreal Paris Per creare un'emozione Devi inventarti un metodo Darti tempo Affinarti E poi unirti A chi possa darle voce Niente da gusto come creare un'emozione A parte viverla Brandi Vecchia Romagna Maestro di emozioni Happy Holidays La vie est belle Brancum Questo programma è presentato da Duchessa Lia Nobili vini del Piemonte E Verduri Orogel Versace Bright Crystal DR 4.0 Full optional di serie Con 5 anni di garanzia Incredibile Formula Zero Interessi Zero Anticipo Zero Maxi Rata Zero E tua in sole 60 rate Da 339 euro E a dicembre Formula Zero Su tutta la gamma DR Bio Performance Skin Filler Bio Performance Skin Filler I benefici di un effetto filler a casa L'innovativa tecnologia Shiseido in due fasi L'acido ialuronico compattato penetra e si riespande La pelle appare volumizzata in un giorno Tecnologia approvata dalla società italiana di medicina estetica Shiseido Ginza Tokyo In a backwards world What if you could move forward Rewrite the code Armani Code Il nuovo profumo ricaricabile Giorgio Armani Smartphone usato Smartphone nuovo Easy Con Smartphone Easy Puoi scegliere il nuovo Honor 95G Da 5,99 euro al mese per 48 mesi Solo nei negozi Vodafone Sous-titrage Société Radio-Canada Tigo Tà Belli, puliti, profumati Nanno, l'hai inventato tu il mandorlato? Già Hai messo le mandorle, lo zucchero E anche le nocciole Ma se ti mangi tutto tu, che ce li ho messi a fare? Buonissimo, signor Balocco Mandorlato Balocco Fate i buoni Il Natale è adesso Subito Now Stai friggendo per l'attesa? Wahoo! Film, serie, tv e show in streaming Questo è Now Fini c'è Now Vieni su NowTV.it Le stelle sono tante Milioni di milioni La stella di Negroni Vuol dire qualità Se Negroni si sente Questa è la mia? Oh, the weather outside It's fire But the fire So delightful Sì, sì, sì No, let it snow Let it snow Let it snow Ciao, tio It doesn't show signs of stopping When I brought some corn for coffee Lights have turned and blow Let it snow Let it snow Nintendo Switch. Per chi ama condividere. Ancora uno. Ancora un morso. Ancora Natale. Ancora il panettone. Ancora le tradizioni belle. Ancora cose buone. Per chi ama condividere ancora. Tre Marie. Dolci gesti gentili. Dov'è il Natale? È dove c'è qualcuno che ti conosce da sempre. È dove c'è qualcuno che sa cosa ti piace. È dove c'è qualcuno al tuo fianco che sa sempre come sorprenderti. Proprio come noi facciamo con te. Natale è qui. A Natale Win 3 sa come renderti felice. Regalati uno smartphone 5G a 0 euro al mese. E in più hai giga illimitati. Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei Win 3 Store. Ma buon Natale ve l'ho già detto. Win 3. Connessioni. Energia. Assicurazioni. Se per magia riuscissi a capire tutti i bambini... Un superpotere. Capirai che superpotere... Sicuramente ne sapresti di più anche sull'amore. Per caso stasera è libero? Il bellissimo. Alessandro Preziosi. Matilde Gioni. Cattina, c'è un ostacolo enorme. Quale? Io. Una commedia strepitosa. In prima visione, Bla Bla Baby. Domani 21 e 25, Rai 1. Di notte i sogni ci appaiono spesso sfumati. Ma se c'è una città capace di metterli a fuoco in modo quasi perfetto... Beh, questo è Parigi. Stanotte a Parigi. Lunedì 25 dicembre alle 21 e 25, Rai 1. E' da passare un'ottata. Cosa fai? Sto scegliendo il regalo per la mamma. Un telefono. E come lo paghi? C'è un posto dove ti danno il telefono che vuoi e lo paghi un pezzetto alla volta. Un pezzetto alla volta. Smartphone nuovo? Sì, per la mamma. E con quello che ci fai? Ci pago il telefono, un pezzetto alla volta. Buona idea. Con Vodafone Smartphone Easy anche a Natale puoi pagare il tuo smartphone un pezzetto alla volta. Fino a 48 piccole rate mensili. Solo nei negozi Vodafone. Quando cambi modo di muoverti, anche ciò che ti sta intorno cambia. Per questo c'è AnyLife. Per trasformare il modo di spostarsi nel mondo con soluzioni di mobilità sempre più sostenibili e servizi in continua evoluzione. AnyLife. La mobilità viva. Versace Bright Crystal Scegli la vera tecnologia Full Hybrid Toyota. Solo a dicembre Toyota anticipa i vantaggi degli eco-incentivi su Gamma Yaris Cross e Gamma Yaris. Tu e con We Hybrid Bonus fino a 6.000 euro. Ti piace Netflix? A Natale puoi averlo insieme a Sky a un prezzo da favola. Le serie e gli show di Sky. In più tutto Netflix. Tutto questo a 14,90 euro al mese. Chiamaci all'141. Vieni su sky.it o nei negozi Sky. Le feste hanno più gusto da McDonald's. Con i Winter Days ogni giorno c'è una nuova super offerta. Scarica l'app. Questo mercoledì 9 Chicken McNuggets a scelta tra original o spicy a 2 euro. Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Taki Flu. TASC. A portata di TASC. Pronto da prendere. Pronto ad agire. Combatte i sintomi da raffreddamento e decongestione alle vie nasali. Taki Flu. TASC. E la giornata continua. Ai sognatori. A chi cerca il piacere. A chi sa cogliere il momento e goderselo. A voi che sapete trovare il lato straordinario della vita. Una nocciola intera e un morbido ripieno in uno scrigno croccante con granella e cioccolato in un prezioso incarto dorato. Ferrero Rocher. Accendi l'oro che in te. Dal 1 gennaio 2024 partirà l'assegno di inclusione. Ma per favorire tutti che vogliono veramente prendere i soldi dal 1 gennaio si erano anticipate al 18 dicembre le domande. Mentre il reddito di cittadinanza che muore da aprile 2019 ad oggi è costato 34 miliardi di euro. Ne ha parlato anche Giorgio Averoni oggi in Parlamento e dice che nonostante il super bonus l'Italia si presenta in Europa in regola. Stasera sono i nostri ospiti Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia. Maria Domenica Castellone, vicepresidente del senato per il momento 5 stelle. Nicola Porlo, direttore del giornale. E in collegamento Peter Gomez, vice direttore del Fatto al Quotidiano. Nella seconda parte del programma un segmento a meno, corone tra ballanti. Dalla Spagna all'Europa del Nord a quanto pare fioccano corna regali. A tra poco. Il 31 dicembre la Rai vi invita in Calabria una terra da sogno sospesa tra mare e montagna ricca di storia, arte e tradizioni. E per festeggiare tutti insieme l'anno che verrà un'indimenticabile serata di musica ed emozioni con un cast stellare. Grazie al pubblico di Rai Uno! In diretta da Crotone, Amadeus presenta l'anno che verrà il 31 dicembre alle 21 su Rai Uno e Rai Radio Uno. Ispirato al capolavoro di Elsa Morante un grande evento TV La storia prossimamente Rai Uno Un punto nel tempo È un giorno che va via Un appuntamento Un partito perpetuo Casino in arrivo, prof? Ma non lo so, può darci. Problemi con la fidanzatina? Secondo te sarebbe così strano se ricominciassimo da dove eravamo rimasti? Sai qual è la fregatura delle calamite, eh? No, qual è? Finiscono per respingersi. Un professore, giovedì 21 e 30 Rai Uno Questo programma è stato presentato da Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte e Verdurì Orogel Questo programma è presentato da Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte Buonasera dal TG1 La Premier Meloni è intervenuta alla Camera in vista del Consiglio Europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles La Presidente del Consiglio ha rivendicato il lavoro svolto in campo economico e in politica estera e dice no a un patto di stabilità impraticabile Roberto Chinzari La partita sulla riforma del patto di stabilità è difficilissima ma ancora aperta La posizione dell'Italia è credibile perché è sostenuta da una politica di bilancio seria Alla Camera in vista del Consiglio di Bruxelles Giorgia Meloni torna a ribadire che non darà l'ok ad una riforma che nessun governo potrebbe rispettare Si discuterà di allargamento, di revisione del bilancio pluriannale Priorità al sostegno finanziario a Kiev ma anche più risorse per gestire il fenomeno migratorio Gestire e non subire l'immigrazione e la posizione italiana ora condivisa Nelle patto con Tirana continua a pieno rispetto del diritto anche se per alcuni di sinistra aiutare l'Italia è una colpa Ribadito sostegno all'Ucraina Medio Oriente, aiuto concreto alla popolazione civile di Gaza Rafforzamento dell'ANP, lotta all'antisemitismo Replicando la Premier ricorda come la politica estera non sia fare foto con Macron e Scholz ma parlare con tutti i 27 membri europei non un attacco a Draghi precisa ma al PD Poi sul super bonus attacca frode e profitti record per le banche sottratti a sanità e famiglie mai favorevole alla ratifica del MES ma chi la chiede ora non fa un favore all'Italia Scontro in aula ma alla fine la Camera prova la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier tema insieme alla manovra al centro del confronto Paola Cervelli Ok al Senato prima di Natale alla Camera entro il 29 sono i tempi dettati per la manovra dalla maggioranza dopo la riunione con la Premier esclusa dal governo ogni proroga per il super bonus il centrodestra ragiona su un emendamento del relatore Liris fratelli d'Italia su uno stato avanzamento lavori straordinario con possibilità di salvaguardare l'agevolazione al 110 sui lavori fatti entro il 31 dicembre senza oneri sul 2024 Forza Italia chiede una proroga anche di pochi mesi il segretario Tagliani dice e ne continueremo a parlare c'è anche il mille proroghe sull'Europa poi la richiesta di chiudere la stagione del rigore apprezzamento per le parole di Meloni anche dalla Lega e per fratelli d'Italia L'Italia può andare al Consiglio Europeo a testa alta da nazione virtuosa grazie al lavoro fatto dal governo Meloni che in questi mesi è intervenuto per ridurre le spese improduttive aumentare il PIL incrementare il lavoro In aula la segretaria Demschlein ascolta Meloni rivolta alla Premier esordisce viva l'Italia antifascista lo dica anche lei su manovra MES patto di stabilità poi è scontro frontale L'Italia pagherà un prezzo altissimo alle alleanze sbagliate di Giorgia Meloni perché i suoi amici sono nemici degli interessi italiani il governo non solo rischia di accettare il ritorno all'austerità ma la sta applicando anche in Italia e Conti accusa la Premier di negoziare flessibilità solo fino al 2027 quindi accusa per la durata del proprio governo e punge non è da patrioti poi replica sul super bonus mezza maggioranza vuole cambiarlo vi parlate o no? campo di battaglia anche la manovra al Senato qui le opposizioni abbandonano la Commissione Bilancio denunciando ritardi sugli emendamenti caos e umiliazione del Parlamento per finanziare il ponte sullo stretto attacca Verdi Sinistra uno scippo al sud il ministro Salvini ha firmato un'ordinanza per ridurre a quattro ore lo sciopero del trasporto pubblico di venerdì 15 dicembre il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto ha scritto sui social ma questo non può paralizzare l'Italia per un giorno intero il presidente americano Biden incontra la Casa Bianca Zelensky dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev in diretta sentiamo il corrispondente Claudio Pagliara 200 milioni di dollari di finanziamenti per difendere il suo paese questo ha dato Joe Biden al presidente Zelensky al termine di una lunga faccia a faccia dentro la studio ovale della Casa Bianca nella conferenza stampa congiunta Biden ha attaccato i repubblicani ha detto se non arriverà il sì ai nuovi aiuti previsti per il prossimo anno 61 miliardi di dollari non saremo più non saremo più Grazie.